Questo non cambia le cose. Eh ma non l'ho letta, ragazzi, io posso commentare qualcosa che leggo. Finché non l'ho letta non so cosa dirvi. Però la sua posizione rimane sempre in città. La mia posizione era e rimarrà uguale, però c'è un'analisi fatta da dei tecnici, fatemi leggere l'analisi. La analisi dice che non va bene, non si fa. Fatemi leggere l'analisi. Poi io so che i cittadini sono in movimento, i sindaci sono in movimento. Eh, quando il popolo si muove, il popolo va ascoltato. Se portiamo in Costituzione il referendum propositivo perché siano i cittadini a proporre al Parlamento delle leggi, figurati se possiamo fermare dei referendum proposti dai cittadini o dai sindaci.